buongiorno ragazzi qui è Delum e oggi inizierà un nuovo vlog day oggi partiremo per rustica se ci fate caso sono le 5 e 10 ora vado a fare la doccia mi svego mi vesto e ci vediamo a porto eccoci qui ragazzi siamo arrivati a porto mi stanno chiamando? ecco qui la chiamata arriva la telecronaca che c'è? ti fa fare in serio? allora fra poco partiremo e arriviamo a rustica eccoci ragazzi qui arrivate a rustica guardate ecco siamo qui con l'aliscafo il mare mio compare campo ferito saluta compa saluta allora ragazzi arriviamo in hotel e facciamo le boxine della camera ciao a tutti eccoci ragazzi qui nella stanza di rustica è una stanza molto piccola ecco là i miei compagni con lo specchio buonasera picciotti devo compare il ragù e il mio compagni campo ragù sono scantiamo la roba compa e c'è qua dentro ah è il portale di nonnia ora ci chiediamo qua dentro il difesco il difesco è con la vestia bianca questo è il lettino che ci hanno dato picciotti in questo tempo abbiamo fatto un casino di cose abbiamo cambiato a piedi siamo scesi a mare non c'era un cazzo da vedere siamo risaliti abbiamo fatto di poche cerchino metri abbiamo fatto e andate e ritorno anche di più ci hanno portato in una stanza ti faccio vedere fuori che è una cosa stupenda ci hanno portato in una stanza qua sotto qua dietro dove non c'era nessuno c'è una quadrupa con il bagno sporco picciotti com'era il bagno? facciamo schifo allora ero due lettini peggio di questi più quello qua a castello ma chi c'è qua dietro? che c'è qua dietro? che c'è qua dietro? oh piccio quattro stelle che vuoi? oh il piumone oh entra dentro il portale di nonia aspetta compa non ti lamentare che stiamo andando a nonia scassa tutto allora picciotti questo è il bagno oh piccio abbiamo il fono si lo so ci mettiamo un pochettino sudati un pochettino vediamo la doccia com'è che nell'altra stanza la doccia faceva letteralmente schifo oh piccio quel bagno è bello che è tutto pisciato però a posto oh piccio chiudete qua il letto com'è vediamo qua ci sono le prime crucce e che? andiamo a fare andiamo con noi allora io dormo con lui saluta loro sono nella stanza che ha detto il professore vediamo come il letto mamma minchia che è duro buttana no miseria oh campo non si può dormire in questo letto con un po' con un po' non si può dormire in questo letto vediamo come il cuscino qua il cuscino è un po' morbido in un po' in un po' in un po' dal European in un po' in un po' in un po' un po' ecco ragazzi guardate qui noi abbiamo una stanza qui vicino Percato che qua dentro non si può scendere Perché c'è la piscina e tutte cose E i professori non vogliono Questa è la salita Questo è tutto l'hotel lì fuori Poi continuiamo a fare l'hotel Cioè vediamo l'hotel lì dentro Qui c'è l'altro pezzo Ci sono le stagioni Guardate quanto è bella gustica E poi tutti vengono in Sicilia A dire sempre la Sicilia La Sicilia Ecco ragazzi qua ci sono le piscine Col mare La la calamella Ciccio calamella Capicetti ci vediamo dopo Ciao Eccoci ragazzi siamo arrivati qui in stanza Dopo una lunghissima giornata Siamo scesi in un paese Qua a Ustica Abbiamo fatto delle compere E ci sono fatto un bellissimo giro Abbiamo bevuto un pochettino Giusto? Un pochettino Ora dobbiamo andarci a fare la doccia Ci aspettano per la cena Se ci riesco vi metterò qualche fotografia Dentro il video Perché monto dal telefono Non posso montare dal computer E in tal caso Ci vediamo a fine serata Che ci aspettano tantissime cose Bella Buongiorno a tutti ragazzi Eccoci qui Sono da giorno di Ustica Allora Ieri ragazzi ci siamo spaccati Ci siamo troppo divertiti Da pensare a ballare Ci stavamo attigiene alle gambe Ci siamo riti con i nostri compagni Eravamo tipo Qua sopra In occasione di persone Tipo 8 I più costi che venivano a rompere i coglioni Come sto E li tocca comunque E ci ti faccio vedere L'alberghio da fuori Guardate che buono Guardate com'è Allora scendiamo giù E vediamo gli altri pezzi Pezzi intendevo La parte dell'hotel La scendiamo Vediamo te scala E' di tali Buongiorno Buongiorno Qua c'è la stanza dove si arriva Qua è dove c'è un piccolo soggiorno Non ci siamo mai stati Guardate che stiamo Qua è bella Tutta che c'è da qua Guardate La parte di Ustica Qua dove ho fatto vedere ieri A presto Andiamo Quando andiamo Lo stavore Allora c'è un po' E qui Allora ci vediamo dopo Allora andiamo a far Aspetta Ci vediamo dopo Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non siamo andati perché il tempo non ci bastava e ci hanno lasciato liberi. Abbiamo giocato un pochettino al bigliardino, ci siamo bevuti una birra, una birretta con gli amici. Adesso abbiamo finito di farci la doccia e dobbiamo scendere per la cena. Ragazzi questo vlog durerà fino a domani, fino alla partenza del ziaquetto che ritorneremo a Palermo. Compà il ziaquetto domani vero? Sì, perché siamo bevuti con la riscaffola e ci andiamo col ziaquetto. Quindi ci staremo poi di più verso le 8, forse arriviamo a Palermo, non so quando esattamente. L'abbiamo verso le 5, però lo so ragazzi, per se mi sbaglio. Poi cercherò di caricare il video e mettere le foto. Per oggi è tutto. Saluta compà. Andiamo ora a mangiare e dopo ci spacchiamo. Bella. E eccoci ragazzi, l'ultimo lezzetto del video di Ustica. Non ride. Ecco qui c'è il ziaquetto che ci portate a Palermo. Ragazzi, in questi giorni cercherò di caricare il video e non lo so. Boh, che ce l'ha a dire? Che ci sono divertiti, ci sono spaccati. Vado, andiamo a Palermo, abbiamo bisogno di studiare, abbiamo gli esami. Quelli del sangue? Sì, quelli del sangue. Pure kid. Allora ragazzi, questo è tutto. Scusate a iscrivervi e lasciare, mi piace, bella. Grazie. 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 Grazie.